Alla Pogu, con 20 da bene, Torino, 24 anni, 1,80 m per testa, 75 kg di peso, provenienti dalla scuola Realti, 2 e 8. Alla Pogu, 15 anni, Mondagna, età 21 anni, a testa, 1,38 m per testa, 77 kg di peso, provenienti dalla scuola Realti, 2 e 8. Alla Pogu, 15 anni, 1,80 m per testa, 75 kg di peso, provenienti dalla scuola Realti, 2 e 8. Alla Pogu, 15 anni, 1,80 m per testa, 75 kg di peso, provenienti dalla scuola Realti, 2 e 8. Alla Pogu, 15 anni, 1,80 m per testa, 75 kg di peso, provenienti dalla scuola Realti, 3 e 8. Alla Pogu, 15 anni, 1,80 m per testa, 75 kg di peso, provenienti dalla scuola Realti, 3 e 8. Alla Pogu, 15 anni, 1,80 m per testa, 75 kg di peso, provenienti dalla scuola Realti, 3 e 8. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.